ma ti inquadrà bene farà che il fabio garda si ha messo il tele garda ma mica quel fil di fare come noi no se noi volendo anche dentro quei tubi di quelle in quei digitali lì non mi va ogni tanto che penso non so se fa bene ma torta come tecnico ora se vai lì ti fai una foto al tubo noi non è lì ne tacchino dentro il tubo basta una sonda è il mio capito è messo l'antenna sul computer oh tante da fare guarda che fabio scherza amica guarda che fabio